Duro botta e risposta sui social tra il consigliere comunale Alessandro Rapinese, lista rapinese sindaco e il nipote di Alida Valli, Pierpaolo De Meio. Non si placa infatti a distanza di giorni il vespaio di polemiche nato dopo la bocciatura in consiglio comunale a Como della mozione di Fratelli d'Italia, votata anche da PD e Svolta Civica, che voleva intitolare una parte di Lungolago all'attrice Alida Valli, la riana di adozione nel centenario della nascita. Lo scontro si consuma su Facebook, il consigliere rapinese posta il suo intervento della riunione consigliare scrivendo Il nipote di Alida Valli si dice indignato perché il consiglio comunale non ha dedicato un pezzo del Lungolago a sua nonna, sconcertante, pretendere la dedica alla propria nonna di una passeggiata sul lago più bello del mondo, mi sembra di un'arroganza inaudita. Dire le bugie non sta bene soprattutto quando si fa politica alla replica del nipote della diva, Io non ho preteso nulla, ho soltanto espresso il mio stato d'animo, ho detto di essere indignato e deluso, spiega De Meglio. Dall'inconsistenza e dalla superficialità delle sue motivazioni perché fa dell'ignoranza un vanto, è triste che l'arte venga strumentalizzata per fare i dispettucci agli avversari politici. Sulla questione è intervenuto anche il PD. È assurdo vedere la spaccatura interna alla maggioranza aprirsi sempre di più, anche su questioni tutto sommato semplici come l'intitolazione di un luogo pubblico ad una figura di ampia rilevanza culturale ed artistica, ha dichiarato il capogruppo del PD in comune a Como, Stefano Fanetti. Per Alida Valli sono forse stato il primo a stimolare la maggioranza alla riflessione sulla non congruità, a como di ricordarla attraverso l'intitolazione di una via, di una piazza o di una passeggiata, ha spiegato Francesco Brenna della lista insieme per l'Andrescina. Questa è stata una proposta troppo politica, fintamente ammantata di cultura. Alida Valli con Como ha poco a che fare. In attesa dunque di un dietrofront del comune, la città di Como dovrà accontentarsi per il momento della proiezione del film documentario Alida a Villa Olmo il 27 luglio.